Uova in salsa shakshuka Prendiamo la salsa shakshuka menù e la andiamo a vuotare in un tegame Accendiamo il fuoco, distribuiamo, aspettiamo che si scaldi Ora la shakshuka è calda, aggiungiamo le uova Saliamo, aggiungiamo un po' di pepe, copriamo e aspettiamo che le uova siano cotte Ora le uova sono cotte, aggiungiamo un po' di perzzemolo tritato, basilico fresco e un po' di erba cipollina E il nostro piatto è pronto Grazie a tutti